Dopo un mese di stop forzato hanno ripreso il mare i peschereci della flotta abruzzese sperando nell'aumento di consumi di pesce fresco in occasione della settimana santa. Durante la quaresima, prima dell'emergenza sanitaria, un italiano su tre mangiava più pesce al posto della carne, con vendite che hanno registrato punte del 50% in più proprio nel fine settimana di Pasqua. Nella Pasqua del coronavirus si verifica invece il raddoppio della vendita di pesci importati dall'estero e soprattutto surgelati, a discapito del pescato locale con le barche che fanno fatica anche a pareggiare costi di gestione. Grave il crollo della domanda sui mercati italiani ed esteri, con una netta flessione degli ordini, effetto registrato anche nella GDO orientato più all'acquisto di prodotto surgelato. Comunque nell'imminenza della festività pasquale qualcosa si muove con un rialzo però dei prezzi. La richiesta di pesce per il periodo di Pasqua sì, però è rilegato al periodo di Pasqua. Sicuramente dopo Pasqua riscenderanno i prezzi e avremo lo stesso problema che abbiamo avuto due settimane fa con il fermo delle barche. Speriamo di no, ci auguriamo di no. Ed in caro in questo momento siamo nell'ordine del 30% circa, solo per il fatto della richiesta di Pasqua. Praticamente per la preparazione di Pasqua. Le barche sono uscite tutte questi giorni? Sì, questa settimana sono uscite tutte e speriamo che rimangano in mare tutte quante per avere un commercio normale del prodotto. La vendita nel periodo pre-festivo è scesa del 40% sicuro.